Ragazzi, nello scorso video abbiamo visto come programmare il Raspberry Pi Pico con l'Arduino IDE per non rinunciare al linguaggio C Sharp E oggi invece vediamo come installare Tony, il programma che Raspberry consiglia per programmare e programmare il Raspberry Pi Pico Per iniziare non dovete fare altro che scaricarvi Tony, che sarebbe un IDE che Raspberry consiglia Sta su GitHub, però anche dal sito Tony.org possiamo scaricare la versione Windows Quindi io clicco su Windows, oppure se avete Mac su Mac Installer 64 bit E come vedete partirà il download Una volta che parte il download non dobbiamo fare altro che aprire il file e fare installa per me Faccio avanti, accetto, avanti, 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 installa Dato che un programma in realtà molto leggero in qualche secondo si sarà installato Ok, una volta finito avete il programma qua Tony, eccolo qua E vi chiederà in che lingua usarlo Io vi consiglio sempre di usarlo in realtà in inglese Qua ci dice tra l'altro se iniziare con le impostazioni standard oppure con le impostazioni di Raspberry Pi Noi iniziamo con le impostazioni standard perché è meglio capire il principio del funzionamento delle cose Una volta aperto Tony, ecco qua che la schermata diciamo si presenta in questo modo E questo è lo spazio in cui possiamo scrivere con il linguaggio Python quello che vogliamo Tipo appunto print per esempio Hello World Come si usa sempre fare E poi posso premere su via E come vedete me l'ha mandato in esecuzione Mi esce Hello World Come posso anche scrivere Seguite 3D Mars E come vedete se ce lo dice Python Vuol dire che avete 3 secondi per iscrivervi 1, 2, 3 Perfetto possiamo andare avanti Ad aggiungere il firmware di MicroPython sul nostro Raspberry Pi Pico Se non abbiamo mai usato il firmware MicroPython non lo dovremmo caricare Per fare questo dobbiamo trovare il pulsante Questo qua, l'unico pulsante che c'è BootSell E mentre lo teniamo premuto colleghiamo la USB Come vedete è uscito là sotto RPI RP2 Quindi un'unità Come se fosse un'unità disco Come vediamo da qua sotto Vediamo la versione di Python che stiamo usando In questo caso è LocalPython3 Tony's Python Quindi il Python di Tony Se noi clicchiamo qua sopra Vedete possiamo installare MicroPython Quindi installiamo MicroPython da qua Infatti ci dice Metti il tuo device in bootloader mode E noi l'abbiamo fatto con l'operazione di prima Aspetta per qualche secondo finché il volume appare ed è apparso E poi semplicemente dobbiamo selezionare il volume La variante di MicroPython che in questo caso dipende dal microcontrollore sul quale dobbiamo andare a lavorare Noi sceglieremo Most Popular come vedete Raspberry Pi Pico Version 1.19.1 Quindi facciamo install E ci esce scritto fatto Quindi possiamo tranquillamente chiudere Ora andiamo a vedere come usare lo shell qua sotto per controllare il Raspberry Pi Pico Per fare questo dobbiamo di nuovo scendere qua sotto e selezionare MicroPython Raspberry Pi Pico 4 Sulla COM 4 scusate Perfetto lo shell si resetterà E adesso Tony è capace di comunicare con Raspberry Pi Pico tramite il protocollo RELP Che sta per Read Evil Print Loop Che vi permette di digitare dei codici Python direttamente nello shell che poi vedremo sulla scheda Tant'è vero che possiamo scrivere direttamente dei comandi qua e verranno eseguiti sulla scheda Tipo appunto quello di prima ovvero print ciao Print ciao Chiudo Lo invio E come vedete la scheda mi ha restituito In questo caso è stata proprio la scheda restituirmi la parola ciao E' stato il Raspberry Pi Pico Possiamo anche dirgli di controllare l'hardware nel Raspberry Pi Pico Per esempio gli possiamo dire Dobbiamo scrivere da un'altra parte From machine import pin Poi al capo scriviamo led uguale pin 25 virgola pin punto out Perché il pin 25 corrisponde al pin sulla scheda E poi gli dico led value uguale 1 Se io copio questo e lo importo qua dentro con un copio incolla e faccio ok Come vedete nel Raspberry Pi Pico il led sulla scheda si è acceso Se io ricopio la stessa cosa ma qua su led value ci metto 0 Vedete faccio invio E il led esattamente si è spento Ovviamente lo shell serve per programmarlo con programmi semplici diciamo molto veloci Però ovviamente dovremo arrivare al punto in cui programmare sulla scheda E mettere il programma diciamo in un file no? O comunque sulla memoria del Raspberry Pi Pico Tony ovviamente può salvare i programmi in micro python direttamente sul Raspberry Pi Pico Ora vediamo come caricare uno sketch blink Quindi accendi e spegni il led con micro python Salvarlo sulla scheda, chiudere tutto e poi quando li inventeremo di nuovo il Raspberry Pi Pico Funzionerà già come avevamo impostato Quindi noi adesso dobbiamo andare a programmare su questa parte e non più sullo shell Quindi eliminiamo tutto e scriviamo quasi le stesse richiede prima Quindi from machine import pin E poi gli diciamo che il led è uguale al pin 25 che deve essere impostato come pin di output Chiudo E poi gli dico led.toggle Apro e chiuso parentesi E posso andare a cliccare su run current script Come vedete quando io faccio run current script Quella rega di codice led.toggle Mi cambia il valore logico in questo caso del led Quindi del pin 25 che a cui è associato il led in parallelo Quindi se io faccio run come vedete si accende il led Se io faccio di nuovo run si spegne Se io faccio di nuovo run si accende si spegne si accende si spegne si accende si spegne A seconda di come clicco su run Ora noi possiamo usare il modulo timer di micropython Per impostare appunto l'intervallo con il quale led.toggle si deve azionare Quindi per fare appunto l'intermittenza della luce Per questo eliminiamo led.toggle con il ctrl x Quindi lo copiamo e nel mentre si eliminano lo tagliamo E impostiamo una variabile timer che è uguale a timer Apro e chiudo parentesi Poi giù scriviamo def blink timer Due punti Il comando di prima che è appunto led.toggle per accendere E poi gli diciamo che inizializziamo il timer con una frequenza pari a 2.5 E in modalità pari a timer.periodic.callback uguale a blink Se adesso ok e qua ovviamente devo definire anche timer Ok faccio run e come vedete la spia si accende e si disattiva con una frequenza di 2.5 Hz Tant'è vero che a noi per curiosità se io faccio qua e dico che me lo deve accendere a 50 Hz La stessa frequenza della videocamera Faccio run e praticamente dovrebbe essere quasi accesa Tant'è vero che se faccio 25 Hz faccio run Io lo vedo però non so se adesso la fotocamera lo sta vedendo Questa è una cosa che vedrò in post produzione per mia curiosità Quindi con questo valore impostiamo la frequenza Bene ragazzi questa è ora un'introduzione a Micro Python diciamo con Tony Magari nei prossimi video vediamo come utilizzare gli output e gli input digitali Magari con un potenziometro, un led esterno, una resistenza, un pulsante Vediamo Voglio capire un attimo se vi piace Anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti Ricordatevi di iscrivervi, di mettere mi piace il video e di condividere Ciao ciao